L'aumento del prezzo del carburante in Veneto sta mettendo in grave difficoltà i cosiddetti padroncini. Nella nostra regione sono 75.820 idraulici, elettricisti, falegnami, tassisti, autonaleggiatori con conducente e ancora trasportatori, bus operator, agenti di commercio, solo per citarne alcuni, che ogni giorno, per ragioni di lavoro, si spostano con il proprio mezzo. L'allarme lanciato dalla CGA di Mestre, che chiede con forza un intervento su due versanti. Il primo attraverso una riduzione delle imposte, il secondo rivolto specificatamente ai mezzi pesanti, chiedendo all'Unione Europea di modificare le disposizioni in vigore. Piccoli imprenditori artigiani che nel tempo saranno quasi sicuramente costretti a scaricare questi extra costi sul cliente finale, alimentando così l'inflazione, aggiunge il segretario regionale dei trasporti. Ma non solo i padroncini, tutta la filiera del trasporto riguardante merci e logistica, in particolare la gomma, ma anche le navi. Non è di questi giorni la protesta dei camionisti, perché il gasolio per l'appunto è aumentato, ma anche il metano è aumentato e quindi mette a rischio la continuità aziendale di queste realtà. Tra la gente è grande la preoccupazione anche per i rialzi delle materie prime. Con il grano, le forniture di maisi, i fertilizzanti e in un ultimo il settore degli allevamenti. Noi purtroppo come Stato siamo privi di materia prima, abbiamo molto del turismo, ma non abbiamo le materie prime, toccherà approvvigionarle dall'Africa, dall'Australia, ci sono i dazi per andare in Cina, adesso bloccano la Russia che aveva la materia prima. L'America non è che può portare il gas sulle navi perché sarebbe un'utopia, quindi bisognerà approvvigionare materiale da Australia, Africa. Quello che stiamo assistendo è tragico, è una vera bomba atomica buttata nel mondo, è una seconda Hiroshima. Speriamo bene per tutto. Ma vorrei sperare che sia un po' prematuro doversi preoccupare in questi termini di quello che potrà accadere. Poi bisogna essere anche pronti a tutto, però non vorrei alzare la soglia della preoccupazione in questa fase, ne abbiamo già tanti di pensieri.